L'azzurro del cielo e del mare, l'oro delle spiagge, il verde delle palme. Lo splendore della Repubblica Dominicana arriva nella città eterna e apre una finestra sui Caraibi con una mostra fotografica al Vittoriano nell'ambito di Roma verso Expo. Circa 40 scatti dei più importanti fotografi dominicani regalano un assaggio di quello che il paese tropicale sta preparando per l'esposizione universale di Milano. L'architetto che sta dirigendo i nostri lavori al padiglione, si chiama Ruben Hernández Fontana, ha avuto questa idea di aprire una cosiddetta finestra sui Caraibi. L'idea è dimostrare il colore azzurro del nostro cielo e del nostro mare. Queste sono le nostre attrazioni turistiche più importanti. Ci sono tanti italiani, centinaia di migliaia di italiani che visitano la Repubblica Dominicana ogni anno e il nostro proposito è di incrementare questo numero attraverso una mostra come questa anche l'Expo. Non solo meta turistica da sogno, ma fonte di prodotti biologici di alta qualità esportati in tutto il mondo. Senza dimenticare la storia, all'Expo la Repubblica Dominicana si presenterà infatti non solo come ponte tra Europa e il cosiddetto nuovo mondo, ma anche come vertice fra tre mondi. Incontro tra i gruppi etnici autoctoni, l'espansione europea nelle Americhe e l'arrivo di culture africane nel continente. Grazie!